buona serata amici di border nights torna con noi marco cesati cassin ciao marco a tutti buona serata allora questa sera torneremo a parlare come avete visto dal titolo di rincarnazione di molto altro ma siamo anche caro marco alla vigilia di un appuntamento l'evento dell'anno vite precedenti il viaggio dell'anima tua anima di sé scelta i tuoi genitori bellaria è già marina 28 29 ottobre se sei d'accordo marco vedrei anche questo piccolo video di presentazione sono 30 secondi vai pure il giardino dei libri ti propone un evento mai fatto prima in italia uno spettacolo formativo ed emozionante a bellaria idea marina vite precedenti il viaggio dell'anima fatti un regalo un weekend speciale ed un programma spettacolare con la tecnologia di ultima generazione dell'aria idea marina 28 29 ottobre 2023 vite precedenti il viaggio dell'anima allora marco nel senso che io essendomi occupato in una vita precedente giusto appunto di spettacolo ho pensato che è arrivato il momento di cambiare il modo della comunicazione di questi argomenti molto importanti e quindi per cambiare il modo di comunicazione bisogna fare degli investimenti bisogna avere una tecnologia a livello ed ecco che mi sono inventato questo che non è un corso non è un convegno questo spettacolo formativo ma soprattutto emozionante perché chi viene deve andarsene con delle emozioni scolpite i ricordi sono sempre legati alle emozioni e quindi questo tipo di esperienza deve farti sorridere farti piangere coinvolgere in modo molto forte e per fare questo ci vogliono anche le tecnologie quindi c'è un led wall di quarta generazione con lungo 10 metri alto 3 metri e mezzo ci sono 4 telecamere più un drone che riprenderà e farà ovviamente delle riprese con una regia magistrale di tutto quello che accadrà ci sono relatori nuovi ci sono sorprese c'è spettacolo c'è coinvolgimento del pubblico ci sono sperimentazioni e tanto altro questo perché perché dobbiamo cambiare il modo di comunicare cercare di arrivare un pochino più a fondo su quello che è proprio il messaggio di queste informazioni così importanti regalati un weekend mi faccio un weekend a fine ottobre con il mio amico con la mia amica con la mia moglie con mio marito gli alberghi costano veramente pochissimo andate su viaggioanima.it così vedete di cosa si tratta viaggioanima.it vi assicuro che è un'esperienza unica irripetibile quindi approfittatene per dire io c'ero detto questo io parto con il tema della mia serata che è molto vicino ovviamente a questo che si intitola reincarnazione allora la reincarnazione è come dirvi una sorta di parola che si utilizza molto spesso ma che esiste esiste soprattutto anche dal punto di vista della fede e delle religioni qualcuno di voi saprà che origine uno dei pari della chiesa poco dopo il 90 dopo cristo predicava la reincarnazione che lui chiamava trasmigrazione delle anime o metempsiche ovvero l'anima aggiungeva la nuova vita fortificata o indebolita dall'esperienza della vita precedente e qui doveva o subire o godere di quello che aveva compiuto quindi abbiamo anche una legge carmica e a questo punto l'imperatore mi pare che era costantino insieme a sua moglie organizzò un concilio di nicea mi pare nel 523 dopo cristo e lanciarono il famoso anatema contro origine perché perché praticamente l'anima si auto assolve non ha più bisogno della chiesa che faccia tutto quello che deve fare per fare la sua la sua funzione quindi qui l'anima si auto assolve nascendo indebolita o fortificata e quindi dichiarò fuori fuori legge fuori tutto quello che aveva scritto vennero bruciati tutti i testi anatema contro origine e da allora si inventò la parola limbo e non si parlò mai più di rincarnazione questo è un dato di fatto la rincarnazione invece è parlata a lungo in tante altre religioni ma soprattutto ricordatevi che io sono un ricercatore ci sono le prove ci sono le prove ci sono i riscontri e quindi ci sono le narrazioni tutto questo deve far parte di una vostra ricerca cosa vuol dire ricerca vuol dire che ognuno di voi si deve costruire la sua verità la sua verità che unica ognuno ogni essere umano la sua verità non c'è qualcuno che ha una verità più potente dell'altro e l'importante è saper cogliere da ogni essere umano quel pizzico quel frammento di verità che ti potrebbe raccontare però fatevi le vostre idee leggendo documentandovi ma alla fine poi provando sulla vostra pelle perché tutto è possibile questo ve lo assicuro aprite la vostra mente dite all'universo ok sono pronto voglio provare e tutto arriva poi le strade sono molteplici soprattutto per questo argomento molto affascinante allora per portarvi con con noi questa sera su questo argomento io ho preparato uno slide show quindi cominciamo con la prima diapositiva questo ragazzo che vedete si chiama roberto setti io adesso voglio cominciare a parlarvi con una esemplificazione di persone pazzesche che vi hanno dimostrato o hanno dimostrato per chi non li conosce la l'esistenza dell'esistenza dell'oltre in maniera assolutamente di riscontri di prove di tangibilità e lui sicuramente è la persona più importante che l'italia abbia avuto in questo argomento e soprattutto nel mondo roberto setti dall'età di nove anni quando subì un trauma terribile con l'uccisione alla fine della seconda guerra mondiale del suo adorato fratello comincia a vedere di tutto e di più e quindi questo ragazzo ha una vita segnata sicuramente predestinata che lo porterà a fare quello che la ricerca più importante successa in italia che è il nel frattempo vedo che mi segnalano che il 325 di ringrazio infatti ha detto mi pare ma non mi ricordavo quindi ringrazio sia Maria Grazia che Paolo è il 325 59523 però se ci pensate ho fatto un cambio di un cambio di numeri vedete che lontano non c'era allora a questo punto cosa succede succede che roberto setti crea un cerchio di conoscenza molto importante molto alto e questo cerchio si chiama cerchio firenze 77 cerchio firenze 77 che andrà avanti per tantissimo tempo oggi tuttora anche se molto anziani ci sono dei testimoni di quello che accadeva in queste riunioni con il medium qui vedete proprio Roberto Setti con le mani aperte questa è una foto con flash ma in quel cerchio c'era oscurità e chi era presente poteva vedere che in quelle mani si sarebbe di lì a poco formato un oggetto che proveniva da un'altra dimensione da un'altra era e quindi c'è una trasmutazione energetica e questo oggetto si sarebbe spostato da dove si trovava nelle mani di Roberto Setti il quale in quel momento con una piccola luce azzurronio una violacea avrebbe composto con le mani aperte l'arrivo di questo amuleto di questo gioiello di questa gioia di questi orecchini sono arrivate veramente tante tante cose Roberto Setti ha canalizzato le entità altissime 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 intendosi esseri umani che sono la fine del loro percorso umano terrestre e vengono chiamate enteliche dal greco entelis alla fine del loro percorso e queste persone sono sagge chiamiamole così e quindi sono nati dei libri molto belli io ve ne faccio vedere qualcuno torna col sottoscritto ma anche perché ce ne sono tanti Fabio volevo far vedere qualche libro se ci sei se no le faccio eccole qua questi sono questo è il primo libro oltre illusione vedete che c'è proprio un amuleto disegnato questo è forse il secondo il primo è questo dai mondi invisibili anche qui un altro amuleto sulla mano di Roberto Setti ce ne sono tantissimi io ne avrò una decina maestro perché sagge gocce di saggezza testimonie riflessioni sul cerchio di Firenze 77 quindi volete documentarvi sono dei libri veramente molto belli molto istruttivi su cosa accadeva in quelle riunioni tutto assolutamente vero poi ci sono i libri del mio amico Ruggini ve ne faccio vedere uno lo prendo in diretta Enrico Ruggini testimone fisico del cerchio di Firenze ha scritto tre volumi questo è il numero uno una storia vera divenuta leggenda volume uno sono tutti aneddoti fatti testimonianzi di lui presente e io vi assicuro che leggendo questo vi fareste tutto un altro dia di cosa vuol dire dialogare oltre il velo avevamo intervistato qualche anno fa Umberto Ghidi che ci raccontò come no come no come no e poi tuttora ci sono gli incontri all'hotel Michelangelo di Firenze dove arrivano sempre i testimoni oculari di quello che accadeva andate a vedere e fare che vi faccio una volta al mese è veramente tutto tutto meraviglioso per quello che è la vicenda del cerchio Firenze 37 torniamo alle nostre slide e andiamo avanti eccolo qua Roberto Setti avanti negli anni purtroppo farà una fine molto precoce su una sedia a rotelle malato di sla e morirà a 53-54 anni lui è una persona molto umile impiegato del comune però quello che ha fatto vi assicuro che è quello che era era qualcosa che è al di fuori del concepibile umano un altro personaggio poco conosciuto di cui vi voglio parlare brevemente è Demofilo Fidani Demofilo Fidani è stato uno sceneggiatore, regista ma anche lui potentissimo medium con delle capacità incredibili di visualizzazione di spostamento, di innalzamento veramente qualcosa di pazzesco e ha sempre cercato di mantenere un po' nascosta questo suo dono perché ovviamente lui doveva lavorare come in televisione come scenografo, come sceneggiatore e io anche qui ho due libri di Fidani che sono questi no, ce n'è uno solo l'altro e questo è sicuramente la sua biografia che è oltre la soglia quindi la storia della sua vita tutto quello che gli è accaduto e quindi praticamente diventano testimonianze preziose autoscritte e che devono rimanere veramente il più possibile guardate qua, ho aperto una pagina a caso questa è una sua scrittura automatica di un messaggio ricevuto insomma è molto interessante e infine per fare questa veloce carellata di questi personaggi torniamo con le slide infine eccolo ancora Demofilo questo è un libro suo che non si trova più se ci sei batti un colpo Patricia D'Array questa bellissima donna francese ex conduttrice del tre giornale del primo canale francese che ha il coraggio nei primi anni 90 di fare una dichiarazione un outing come si dice oggi e dichiara a tutti che è un medium tra l'altro D'Array parla perfettamente italiano è una donna molto magnetica molto affascinante e ha scritto un libro che si intitola Un soffio d'eternità edito da Rizzoli ormai uscito da un po' di tempo per la precisione non so se esiste è uscito dieci anni fa e non so se esiste in versione economica ma io quando l'ho letto sono rimasto veramente colpito perché e qui entriamo un po' nella materia nella descrizione di quello che io vi voglio dire perché Patricia D'Array innanzitutto comincia a descrivere e a dire tutto quello che è nel parallelo ma soprattutto se noi parliamo di reincarnazione dobbiamo ammettere che se esiste la reincarnazione quindi quello che noi eravamo e oggi diventiamo esiste nello stesso momento anche quello che noi saremo cioè questo tipo di concetto visto da un altro punto di come dire di osservazione è un punto unico è un punto così chiamato infinito quindi io quando sono dall'altra parte vedo vari televisori quindi vedo il televisore di quello che eri ma vedo anche il televisore di quello che sarai oppure di quello che farai ok? allora attenzione io leggo nel libro della Joddare l'incontro che avvenne fortuitamente durante una sorta di piccolo esperimento che fece con sua nipote molto giovane con il figlio che ancora non aveva e proprio nel libro c'è scritto chi sei? e lui rispose sono tuo figlio e lei disse ma io non ho figli e lui rispose ma io sono il tuo figlio che avrai nel 1994 ed era il 1991 allora se voi entrate in questo tipo di premesso che poi la storia ha avuto un'altra piega perché questo spirito era molto insistente molto antipatico molto esuberante molto anche se vogliamo con superbo potrei dire a un certo punto lei proprio non lo voleva questo figlio così antipatico però il fatto sta che nel 1994 lei rimase incinta anzi praticamente c'era anche l'idea che non non potesse rimanere incinta invece lei rimase ma lei scrisse testuali non saprei dire se fu per l'antipatia che mi aveva suscitato o se per una questione puramente fisiologica fatto sta che io poi ebbi un aborto spontaneo e quindi questo figlio non arrivò però arrivò un altro figlio nel 1995 che fu il suo unico figlio quindi comunque un altro figlio arrivò quindi questa informazione che lei riceve spostata nel tempo secondo me è da raccogliere perché vi fa vedere che c'è un proseguio c'è una una linea della vita che viene osservata e che viene vista prima di scendere su questo mondo di qua non v'è dubbio tant'è che si dice tu ti sei scelto i tuoi genitori eh sì non è che uno si sceglie i suoi genitori perfetti meravigliosi amorevoli presenti coccoloni il più delle volte l'anima si sceglie il genitore per apprendere per andare avanti e purtroppo è un genitore cattivo ehm privo di amore se per non dire di peggio eh è lì che l'anima fa l'evoluzione e apprende ricordatevi che la legge degli opposti sono necessarie per andare avanti ehm io vi leggo un altro passaggio della Darre che è molto importante quello che davvero conta non è sapere chi eravamo o chi abbiamo scelto di diventare nel passato ma chi siamo nell'attimo presente chi scegliamo di essere qui e ora noi scegliamo e creiamo in ogni momento della nostra vita ognuno è libero di fare o di non fare ciò che aveva previsto prima di nascere ripeto ognuno è libero di fare o di non fare ciò che aveva previsto prima di nascere ma se non lo fa avrà l'opportunità di portare a compimento ciò che è giusto per lui altrove magari anche in un altro modo continuando a migliorare e imparare ed evolvere vale a dire che se la cosa la interrompi comunque la devi portare avanti poi qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo molto importante di quello che è il libro arbitrio ma il libro arbitrio come diceva Gurdjieff è molto è molto limitato non è non è un libro arbitrio così puro perché perché alla fine noi siamo condizionati noi veniamo al mondo abbiamo scelto i genitori e i nostri genitori ci condizionano io dico sempre che noi fino a 21 anni siamo delle vittime tutti e quindi anche voi siete vittime di chi? innanzitutto dei vostri genitori e poi avete i nonni poi avete la società la scuola la chiesa e cominciano a montare su di noi le credenze e i condizionamenti e da qui è molto difficile uscirne perché perché uscire dai condizionamenti significa prendere coscienza e diventare direttamente sotto la forza creatrice perché perché noi siamo sotto due forze o è una o è l'altra la prima forza è la forza imitatrice la seconda forza è la forza creatrice la forza imitatrice è quella genitoriale ovvero i genitori che fanno in qualsiasi modo perché voi possiate essere il più possibile simili a loro anzi ne godono hai visto che fa esattamente le mie stesse mosse hai visto che fa esattamente le mie stesse scelte cioè l'essere identico al padre è un godimento egoico pazzesco peccato che tu figlio non sei tu ma sei una fotocopia del padre e questo non va bene pensate quando poi magari c'è un padre che eredita da suo padre quindi dal nonno una farmacia che macina soldi a più non posso e quindi anche lui è diventato farmacista e poi va da suo figlio e gli dirà ma tu non oserai mica non laurearti in farmacia non portare avanti la farmacia quando io un giorno non ci sarò più vero guarda quanto benessere che ci dà e il figlio costretto a malincuore quando magari voleva fare il chitarrista rock per dirvi mentre poi c'è la parte minore dei figli che è intorno a un 20% che nasce sotto la forza creatrice ovvero non è sotto la forza imitatrice ma è agganciato completamente con l'universo quindi io posso esprimermi posso creare posso essere quello che ritengo di essere senza avere condizionamenti genitoriali poi c'è una piccola parte invece che riesce a liberarsi dalla forza imitatrice pressata dal padre e dalla madre e passare alla forza creatrice chiuso questo piccolo questa piccola disgressione vorrei dirvi che c'è questa esperienza della D'Array con Oscar Wilde che vi voglio narrare perché anche questo è significativo per andare a parlare poi del mondo di là e anche della rincarnazione e quindi del passato del presente Oscar Wilde dopo la sua morte avvenuta a Parigi nel 1903 entrò in contatto con numerosi medium nel 2005 nel 2005 quindi stiamo parlando oltre 100 anni dopo che era morto anche lei entra in contatto con Oscar Wilde per aiutarlo per compiere il passaggio da dove si trovava da lungo tempo in un'altra dimensione che emanava una vibrazione più elevata maggiormente in sintonia con il suo spirito in quanto ormai finalmente dopo 100 anni era pronto per andare oltre pur non essendo uno spirito errante in un certo senso Oscar Wilde era bloccato sul piano nel quale si trovava rifiutandosi di raggiungere il livello superiore mi era stato affidato dalle mie gerarchie per dialogare con lui per aiutarlo a prendere coscienza di questa evoluzione necessaria vi ricordo che Oscar Wilde è morto di meningito e nella più assoluta povertà era rimasto profondamente segnato dai due anni di lavori forzati che aveva scontato in seguito alla condanna per omosessualità e che gli costarono anche l'esilio dall'Inghilterra inutile dire che nell'aldilà non aveva perso nulla del suo carisma e della sua intelligenza esercitava il suo potere di seduzione su tutti i medium che comunicavano con lui e che finivano immancabilmente per farsi ammaliare dal suo grande fascino bene dopo questa presentazione entriamo nel contatto vive vero e proprio tra Oscar Wilde e Ladarre pensate cosa disse Oscar Wilde a Ladarre mi disse che nell'aldilà abitava nel suo appartamento londinese e si era ricreato senza ombra di dubbio l'ambiente che gli aveva regalato alcuni anni belli e gratificanti prima dei momenti duri che avrebbero accompagnato l'ultimo periodo della sua vita viveva da solo amava sedersi in poltrona a fumare il suo sigaro sorseggiandosi una tazza di tè sapeva di essere morto ma non vedeva l'utilità di abbandonare quella realtà che si era creato ok a certo punto io chiesi signora Oscar Wilde quale autore mi consiglia di leggere Shakespeare e Oscar Wilde mi rispose lei certo non brilla di originalità piuttosto legga Gide si dà caso infatti che André Gide e Oscar Wilde siano conosciuti a Parigi lo sa che i suoi libri sono tuttora molto letti e che riscuotono sempre un enorme successo disse la Darre cosa vuole a me che me ne importi tanto ormai non percepisco più i diritti d'autore oppure quali sono gli aspetti positivi della dimensione in cui lei vive ora in quella casa londinese risposta non ci sono più le zanzare veramente io sono senza parole alla fine mi confidò che i fiori e le piante del suo giardino stavano marcendo e lui non riusciva a eliminare l'odore nauseabondo che emanavano e a dispetto dell'essenza di eliotropo che spruzzava abbondantemente dappertutto questo fu il motivo che lo convinse da me lo stato di putrefazione persistente simboleggiava un certo ristagno della sua coscienza e quindi lo convinse ad elevarsi e finalmente andò nella vibrazione più alta ecco qual è il meccanismo per il quale il buon Oscar Wilde cambiò la vibrazione tutto questo secondo me è fantastico allora a questo punto voglio raccontarvi un fatto meno noto ma secondo me molto importante per quanto riguarda la verifica da buon ricercatore laico quale sono la verifica di che noi che noi siamo ben altro di quello che vediamo e siamo ovvero ovvero questa donna che leggete il nome è una mamma di due ragazze due meravogliose figlie una di nome Federica e l'altra di nome Erika questa è Federica e questa è Erika sono due sorelle molto attaccate e a un certo punto ormai una storia più di dieci anni fa Federica insieme al suo fidanzato vengono investite su estisce pedonali vicino a casa muoiono sul colpo e la madre cade nel baratro la madre cade nel baratro e non si dà pace ovviamente non ha nessuna notizia di questo tipo di informazioni è una persona completamente allo sbando e soprattutto trascina tutte le persone che ha intorno il marito il papà e la sorella a questo punto intervengo io vi faccio una sintesi ovviamente intervengo io in aiuto e le presento una medium che allora viveva a Roma e che aveva una capacità enorme di visualizzare le persone defunte dopo averla preparata presi il telefono chiamai la medium e le dissi allora sabato prossimo ti mando questa donna a incontrare sua figlia e lei mi disse bene dopo due giorni la medium mi telefonò e mi disse Marco ma senti ma questa donna deve incontrare una ragazza sui 16-17 anni io faccio sì per caso è morta in un incidente stradale io faccio sì per caso ha i capelli neri e gli occhi un po' a mandorla io faccio sì ma non è poi devi dire prima perché questa è già venuta a casa è qua e io non so che cosa fare non so che cosa dirle è una presenza ingombrante questo è quello che mi disse io chiamai la madre glielo dissi lei rimase felicemente sconvolta ma poi l'incontro fu ancora più strepitoso qualcosa di incredibile e le informazioni che arrivarono erano innanzitutto che la figlia stava benissimo era dispiaciuta perché l'unica cosa che veramente le dispiaceva in quel momento era non aver salutato la sua famiglia tant'è che la medium arrivò fino al paese dove era stata investita volle andare sulle strisce pedonali e uno a uno un po' come Ghost abbracciò tutti i familiari poi vengono due enormi esseri di luce e la portarono su in alto tutto questo bene la madre un po' si tranquillizza si chieta la vita va avanti fino a quando a un certo punto mi chiama di nuovo la medium e mi dice che Federica è tornata a trovarla per darla una notizia mi dico com'è come una bussa col vassoio di pasticcini ti viene a trovare comunque cosa ti ha detto è venuta a comunicarmi che sua sorella metterà al mondo una bambina e la chiamerà Rebecca allora attenzione che cosa succede questa lettera che voi vedete è una lettera scritta da la medium da Erika per Erika da parte di Giovanna da non aprire qui c'è scritto non aprire fino alla nascita e quello che vedete è il 22 marzo 2014 Roma allora questa come dire questa data è la data dell'informazione ricevuta dentro c'è il nome della bambina io poi ho messo sopra una ceralacca e questa busta è rimasta chiusa perché perché Erika era completamente non era incinta non era sposata niente quindi io comincio a informarmi il tempo passa e dopo un anno non era accaduto ancora nulla non era né incinta né sposata quindi siamo al marzo 2015 e ancora non è accaduto nulla a questo punto arriviamo all'estate del 2015 e ricevo notizia finalmente che la ragazza è incinta e quindi aspetto ovviamente si sposa aspetto la notizia e la notizia arriva tra l'altro il giorno dopo il mio compleanno l'8 giugno del 2016 ecco che arriva questa bellissima bambina con in braccio il papà poi abbiamo quest'altra foto che è Maria Grazia col papà con la nipotina e prima di aprire la busta io mi faccio e dire qualcosa mi faccio dare il certificato di nascita della bambina fosse mai che magari alla notizia corrono a cambiare fare e vado a vedere che cosa hanno scritto all'anagrafe e qui lo vediamo Rebecca anzi ve la ingrandisco Rebecca 8 giugno 2016 11 peso 3,2 kg e 10 cento quindi l'avevano chiamata Rebecca senza sapere nulla quindi prendo la busta tiro via la ceralacca che voi vedete in questo momento e a questo punto la apro e c'è scritto Rebecca tra l'altro questa notizia come dire viene ripetuta un'altra volta con questa informazione che ricevo sempre da Giovanna ricevuta il 18 di maggio del 2018 ecco qua il davanti della busta sempre con la ceralacca e qua dentro c'è scritto il nome il sesso e soprattutto quando arriverà e quando io chiesi alla Medium com'era possibile la Medium rispose sorridendo ma guarda è più semplice di quello che pensi perché era lei che teneva per mano questa creatura che aveva l'età corrispondente ripeto l'età corrispondente al tempo necessario per nascere quindi se avesse avuto un bambino di sette anni sarebbe arrivato tra sette anni per dovere della cronaca la ragazza si è separata dal padre è molto giovane ancora ma non è arrivata e quindi la busta è chiusa qui nella mia cassaforte questo per dirvi comunque che vengono viste le cose che accadono vengono osservate altre si possono comunicare altre non si possono assolutamente dire tra l'altro un'altra esperienza molto interessante è sempre di questa mamma è legata a questa agenda ovvero un giorno di marzo senza sapere perché questa donna entra in una grande cartoneria e acquista questa agenda premesso che lei non usa agende premesso che siamo a marzo quindi era quasi come dire io non sapevo perché ma ho comprato questa agenda vedete che c'è un botton down e mentre ero in fila per pagare la cassa apro il botton down e caccio un urlo perché nella prima pagina c'era questa frase ciao sono io che parlo di lui che lo amo da impazzire fede ti amo oh questa che vedete è la firma di federica quindi chi è che ha scritto questa frase premesso che quel giorno era il 19 di marzo premesso che federica ha un'adorazione per il suo papà chi è che scrive questa cosa qui potremmo aprire un altro capitolo ma non è la serata però fatto sta che questi fatti arrivano e devono essere assolutamente presi in considerazione a questo punto il passaggio come dire la la coesistenza per l'aldilà e l'aldiquà permane perché perché Steiner diceva un secolo fa che l'aldiquà è la conseguenza che l'aldilà è la conseguenza dell'aldiquà ed è vero c'è un'interessenza continua ovviamente siamo su due piani diversi il piano sottile il piano della materia ma l'interazione è continua la foto che io vi sto per far vedere è una foto recentissima che è arrivata che è stata scattata da una mia amica pochissimo tempo fa durante un concerto diretto dal maestro Muti il maestro Muti in quel momento stava facendo eseguendo un'opera di Verdi e questa donna che ripeto è una mia conoscente ha scattato questa foto e la foto è veramente impressionante adesso ve la faccio vedere vedete che c'è il maestro Muti che ha le braccia abbassate e in mezzo a Muti si vede Verdi da giovane che sta dirigendo con le braccia alzate adesso vi faccio un avvicinamento di questa foto eccola qua la foto è stata fatta con un cellulare e voi vedete perfettamente il movimento di Verdi giovane tra l'altro e il movimento di Muti che ovviamente mi pare che abbia 80 anni questo è quello che succede e quindi vi faccio anche una comparazione guardate anche il tipo di capigliatura di Verdi che è assolutamente paritetico a questa immagine e a me non mi interessa chi mi dà del pagliaccio vedo qua non mi interessa guardate ognuno ha un suo livello di evoluzione io vi racconto la mia verità vi racconto quello che ho da raccontarvi potete cambiare canale potete scrivermi nel pagliaccio ma secondo voi io non mi offendo non c'è nessun problema tra l'altro questo signor Whey Protein già uno che si che si firma Whey Protein invece di mettere il suo nome e cognome la dice lunga forse il pagliaccio è lui ma non mi offendo non è quello il problema però vi assicuro che tutto questo è vero non mi interessa fare fotomontaggi non sarei neanche capace non so neanche da che parte si comincia quindi ho invece studiato rendi contato che accade spesso che queste entità molto elevate continuano a esercitare mediante persone tipo muti per esempio nel momento in cui sta eseguendo un brano cioè noi esistiamo nell'oltre siamo dei corpi sottili e a quanto pare le macchine fotografiche dentro i nostri smartphone hanno una sensibilità veramente notevole e questo è il risultato quindi guardate che tipo di risultato c'è che secondo me è veramente importante tra l'altro un altro tipo di ricerca che si può fare è mettere il cellulare di fronte a un televisore con tubo catodico staccare l'antenna quindi abbiamo il classico zigrinato e cominciare a pensare a qualcosa e qualcuno e vedere che cosa viene cosa viene nell'immagine come vedete qua ci sono varie immagini e quindi questo che poi uno deve andare a verificare chi potrebbe essere e chi non potrebbe essere questo è perché ecco qua invece ci sono dei filmati che non sono non sono visibili perché sono con lo slideshow non importa e questa altra foto è un'altra foto che mi ha colpito moltissimo questa è una una mia amica che vive sulle coste sulle coste del mar Adriatico siamo un anno fa c'era un bellissimo cielo azzurro quell'estate aveva perso la mamma era da sola si stava facendo due tre giorni due tre ore scusate di sole e attenzione si fa un selfie come spesso succede mi sto annoiando mi faccio un selfie per far vedere questo bellissimo cielo azzurro e guardate che cosa si trova si trova di fianco sia sulla destra che sulla sinistra si trova due braccia bene quelle due braccia sono sua madre sulla destra e sua nonna sulla sinistra che sono sedute in mondo astrale a prendere il sole con lei io trovo questo di un poetico di un meraviglioso di qualcosa di veramente incredibile guardate soprattutto il braccio di questa donna e osservate il braccio di quest'altro vedete che ci sono due colorazioni diverse questa è anche più come si vede che sembra un braccio più di una donna anziana così anche per il braccio alla sinistra di questa donna vedete che è un'altra colorazione e la cosa che mi colpisce molto è proprio è proprio questa ombra che vedete sul braccio questa ombra che vedete sul braccio è come dire allora io il sole riesco a stargli di fronte non sono così trasparenze non sono così ecco questa è la ricerca perché quando arrivano queste immagini così belle vi faccio rivedere questa questo scatto dove lei è rimasta basita di questo ma d'altronde lei è anche testimone di altri fatti accaduti che io scrivo ho scritto nel mio libro nel mio ultimo libro che si intitola Noi siamo anima edizione il punto d'incontro e per esempio quest'altra foto me l'ha mandata lei guardate è una rosa verde chiusa con il fil di ferro come vedete e praticamente dentro c'è la sua mamma e quella notte lei ha sognato parlato pianto con la sua mamma è andata in cucina e lei vive da sola e quella rosa era completamente staccata dal quadro come dire guarda che io ci sono anche perché i segnali arrivano numerosi dobbiamo essere noi capaci di come dire di interpretarli e qui vi faccio vedere una foto che ho saltato prima perché volevo spiegarvela che ricordatevi che loro hanno mille e un modo di comunicare per esempio uno dei principali canali di comunicazione sono i cani chi ha i cani o i gatti sono facilmente dei canali di comunicazione quando voi vedete il cane che vi mette il loro muso sul ginocchio mentre voi state piangendo disperati con quegli occhi che sembrano umani e voi dite ma come fai a capirmi solo tu mi capisci mi assicuro che accade molto spesso che siano canali di presenza allora cosa 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 significa questo significa che una ragazza ha comunicato tramite un medium a sua mamma di andare a vedere la ruota posteriore sinistra della sua macchina parcheggiata sotto casa perché c'era un pensiero per lei bene questa donna è scesa di corsa e vai a vedere la gomma sinistra della tua auto e c'è un saluto per te l'unica ruota mentre le altre no che erano state letteralmente coperte di pipì di cane e questa cosa gliel'aveva mandata un medium che abitava a 800 km di stanza scusa ho ricevuto un messaggio di tua figlia che mi dice di andare a vedere la ruota sinistra sotto casa tua perché c'è un saluto per te qui c'è un cane che è passato e ha fatto una mega pisciata a parte di farci una risata i cani spesso diventano questi canali spesso quindi quello che vi voglio dire è che non dovete sottovalutare nulla ma sempre fare affidamento a quello che è la sincronicità cioè il messaggio quindi qui abbiamo per esempio una donna che piange di notte la sua mamma e di mattina vede la rosa staccata ok allora qui siamo già arrivati a 40 minuti siamo volati via e quindi io ti chiedo Fabio di mandare un'altra volta questo appuntamento importante questo spettacolo questo incontro che c'è tra un mese esatto a Bellaria un qualcosa di fantastico emozionante farete delle esperienze enormi non vi vorrei tante dirvele ma poi vi rovino la sorpresa organizzatevi una due giorni a Bellaria e Gemmarina il 28-29 di ottobre perché è uno spettacolo mai fatto in Italia con la più alta tecnologia mai utilizzata qualcosa di meraviglioso eccolo qua vai pure il giardino dei libri ti propone un evento mai fatto prima in Italia uno spettacolo formativo ed emozionante a Bellaria Igea Marina vite precedenti il viaggio dell'anima fatti un regalo un weekend speciale ed un programma spettacolare con la tecnologia di ultima generazione Bellaria Igea Marina 28-29 ottobre 2023 vite precedenti il viaggio dell'anima ok allora io penso di aver finito no parliamo un attimo della pareidolia andiamo ancora un attimo alla pareidolia che è molto importante cercate sempre di non farvi poi abbindolare da quello che può sembrare invece non è il nostro cervello tante volte ci può portare a delle visioni a delle figure che vedete solo voi ma che di fatto non lo sono si chiama ha una definizione si chiama pareidolia per esempio qui c'è un fermo immagine di un falò e io vi chiedo se sulla sinistra vedete un volto di uomo vedete il naso il mento l'occhio sulla parte sinistra della fiamma però qui è una foto che è stata scattata quindi quanto c'è di pareidolia e quanto c'è di vero in questa foto premesso che loro possono entrare uscire anche in frammenti di frammenti di tempo non è quello il problema questo per esempio invece è molto più nitido è un falò un fumo dove esce questo volto di mi pare di un ragazzo una ragazzina e qui è molto più nitido perché grazie al fumo riesco a far vedere molto ovviamente il mio corpo astrale che se no non riusciresti a vedere qui si tratta anche di un'energia molto importante molto alta e quindi questa figura riesce però è un'altra ferma immagine oppure guardate questo falò in un camino e addirittura il fumo della fiamma sulla sinistra genera questa immagine di questo volto con questi occhi molto grandi questo naso e anche qua vai a capire però tante volte noi possiamo pensare che se non facciamo lo scatto fotografico è probabile che dentro il falò c'è qualcuno che ci vede perché loro possono essere ovunque e quindi attenzione alla come si dice alla pareidolia questa per esempio è una fiamma blu vedete sulla sinistra in alto abbiamo la come si dice la figura sulla destra che sembra quasi un po' dantesca la figura qua sulla destra che ci dà questo tipo di osservazione l'ultimo passaggio che merita perché qui andiamo a spiurare la scienza è quello che è la capacità il potere della mente sul trascendente questa figura che voi tutti conoscete è protagonista di un fatto accaduto qualche anno fa a Roma dove un signore devoto di padre Pio non si sente bene viene ricoverato in ospedale gli viene trovato un tumore al rene sinistro deve essere operato al più presto di nefrectomia ovvero l'asportazione totale del rene prima che vada a intaccare gli altri organi gli fissano l'operazione per la settimana seguente lui cosa fa va a San Giovanni Rotondo sta due giorni davanti alla tomba di padre Pio continua a pregare lui è devoto lui ha fede lui ci crede lui lo sa torna bello rafforzato entra in ospedale gli fanno gli esami preoperatori e il rene è guarito completamente miracolo miracolo peccato che a un certo punto nell'esame di controllo verrà riscontrato dentro il rene guarito questa immagine me l'ha mandata il primario in persona viene vista addirittura il volto di padre Pio questo è il rene con il volto di padre Pio allora a questo punto io vi chiedo quanto c'è di convinzione mentale che io guarisco perché ho fede quindi una sorta di legge dell'attrazione e quanto c'è invece di intervento divino di padre Pio allora io vi posso rispondere tutte e due cioè la situazione si congiunge la persona che ha fede e l'intervento divino di padre Pio questo per me è un documento eccezionale tra l'altro io ho fatto fare anche una come si dice una ho fatto fare una adesso mi sfugge la parola da un radiologo una diagnosi che ovviamente non mi ha scritto si evince il volto di padre Pio nel rene ha fatto una spiegazione esquisitamente tecnico-scientifica ma comunque fatto sta che quello non può essere altro che il volto di padre Pio con gli occhi chiusi un altro esempio è questo della stessa genere quindi abbiamo un devoto di Gesù Cristo che è una devota anzi di Gesù Cristo che ha un tumore a questa vertebra e al posto del cuore osservate che c'è un Gesù che osserva proprio la vertebra malata è girata la testa è girata verso la vertebra malata considerate che in quel in quel punto c'è il cuore umano e al posto del cuore c'è questa impressionante impressionante diciamo guardate questa è una foto presa da lontano questa immagine mi è stata mandata dal capo della radiologia dell'ospedale dove venne fatto poi una riunione tra tutti quanti perché era praticamente incredibile che ci fosse una simile figura al posto del cuore su questo non ve' dubbio vedete la barba il naso gli occhi che guarda è girato verso la vertebra malata per dovere o di cronaca anche la signora è guarita eccolo qua ancora più vicino e anche qua io mi domando quanto c'è di trascendentale e quanto c'è di convinzione granitica della persona piena di fede sicura al 100% al di là di ogni ragionevole dubbio che verrà guarita e salvata bene questa la lasciamo perché è troppo lunga il tempo è finito torniamo in come dire torniamo in in diretta ho visto come si dice vabbè ho visto tante polemiche ma si vede che la gente non c'è niente da fare la sera perché sinceramente anche il giorno adesso non la si c'è niente da fare cioè guardatevi qualcosa di più interessante no? no? dobbiamo stare lì a fare i saccenti a fare poi sapete io vi ricordo sempre che ognuno è il risultato di quello che era dai 7 ai 14 anni lo dico sempre perché andate a vedere che infanzia avete avuto andate a vedere quanto amore avete ricevuto andate a vedere quello che avete vissuto sofferto e se siete capaci potete fare un esame di quello che siete oggi perché noi siamo ciò che eravamo dai 7 ai 14 anni Fabio hai qualche domanda interessante o siamo non siamo no intanto ricordo che per l'evento che hai detto poi ci sono anche dei link che hai citato qui ma che sono anche in descrizione come si possono riconoscere ecco ti chiedo solo questo per chiudere dei messaggi appunto un po' anche il tema che hai affrontato dei messaggi autentici o che possono veramente voler dire qualcosa rispetto magari a delle cose dalle quali potremmo essere suggestionati ci vuole innanzitutto studiare ed essere un pochino più preparati cioè non rimanere in balia di qualsiasi cosa arrivi c'è un'immensa biblioteca studio libri di persone molto in gamba preparate su questi argomenti e poi fare una ricerca personale sulla sulla sincronicità secondo me quindi la cadenza il momento in cui tu ricevi la risposta e non che la ricevi dopo che so due tre giorni ma la sincronicità del momento è fondamentale e poi soprattutto la parola amore quindi se tu dialoghi con amore se tu hai un riferimento con amore riceverai sempre amore indietro quindi le risposte sono molto ricche d'amore facciamo un esempio pratico se io sento la mancanza di una persona è questa persona che mi fa arrivare e mi fa rendere conto che sono pieno di cuori sono pieno di farfalle sono pieno di piume perché mi dà l'attenzione infatti il principale motivo di comunicazione tra loro e noi come comunicano loro ci influenzano a fare guardare vedere ascoltare qualcosa che diversamente magari non faremmo quindi influenzandoci noi ci accorgiamo abbassando lo sguardo in quel momento che c'è un cuore perché loro ci hanno fatto abbassare lo sguardo ci hanno influenzato abbassare lo sguardo ecco però senza la ricerca senza lo studio non si fa molto strada si diventa dei leoni da tastiera di questo genere di tra l'altro di basso grado mi dispiace che frequenti il tuo border nights però è questo il bello di questo lavoro perché perché non smetti mai di imparare non smetti mai di stupirti non smetti mai di crescere perché poi la nostra vita cos'è? conoscenza indagine ricerca e ti assicuro che alla fine stai molto meglio soprattutto su questo ultimo tabù che è la morte che io chiamo semplicemente porta porta di accesso a un altro mondo che bisogna imparare a conoscere e non bisogna avere paura purtroppo siamo stati soggiogati per secoli e secoli dalla chiesa che ci ha sempre detto ci penso io a dirti cosa c'è di là tu non ti devi preoccupare di niente anzi ti assolvo io per i tuoi peccati ma tu i vedi un po' a parte la fede col terrore di quello che ti aspettava dall'altra parte oggi non è più così ci sono fior di scienziati ricordo Robert Lanza col suo capolavoro Biocentrismo che parla proprio di questo argomento Robert Lanza è oggi reputato il quarto scienziato più importante al mondo e quindi ha dimostrato nel suo libro la sopravvivenza al corpo fisico della coscienza oppure ci sono altri scienziati che oggi non sono qui sono dall'altra parte come Misharon e come tanti altri quindi la ricerca ci porta sotto ogni aspetto ad avere quelle nostre certezze come dicevo all'inizio quella nostra verità che è la verità mia io ve la racconto io sono felice di farvi vedere queste cose di coinvolgervi guardate che cosa ho scoperto guardate poi mi volete credere mi credete volete darmi nel pagliaccio datemi nel pagliaccio ma guarda Marco non enfatizziamo perché sono chiaramente come in altre trasmissioni avviene chiaramente sono più evidenti magari tre o quattro che fanno casino in chat rispetto alla maggioranza silenziosa che ti apprezza chiaramente questi contenuti c'era una domanda che ne pensate del fatto che in questo secolo non ci sono più grandi medium no non è vero ci sono e come ci sono e come e sono anche di una straordinaria potenza non al livello di Roberto Setti perché Roberto Setti era arrivato a fare delle cose che io ancora non ho visto tipo la bilocazione tipo trasmutazione tipo gli apporti ancora non li ho visti quindi non a quel livello ma ci sono il punto è che noi dobbiamo muoverci in punto di piedi in questo mondo perché se no veniamo lapidati però io vi assicuro che io collaboro con delle persone di altissima potenza di riscontri incredibili che hanno la capacità non solo di dialogare con i nostri cari ma anche di vedere la nostra vita passata le nostre vite passate la nostra vita attuale il nostro stato di salute sono tutti i doni che le vengono dati e che quindi vengono poi messi a disposizione e non solo non solo una sono più di una tant'è che io per il 2024 provo a organizzare dei grandi eventi legati proprio a queste persone grandi eventi di conoscenza non sono sicuramente delle manifestazioni pubbliche di canalizzazione perché di questo ne è pieno l'Italia andate dove volete io voglio andare oltre e coinvolgervi su un'indagine su una ricerca farvi diventare tutti curiosi e cercare studiare leggere documentarsi facendo attenzione ovviamente sempre alle fake news e ai fuori di testa perché comunque anche a me mi chiamano i fuori di testa sapete io su dieci persone che mi chiamano otto non sono medium mi dicono che sono medium e non sono medium non sanno neanche cosa vuol dire essere medium oppure mi dicono ma io faccio dei sogni premonitori raccontamene qualcuno e ne ho fatto uno quando avevo 22 anni quanti anni hai adesso? 49 cioè non funziona così questi doni vengono ripetuti vengono dati vengono coltivati quindi è tutto un immenso lavoro di fatica ma entusiasmante ve lo assicuro il tuo entusiasmo davvero si denota vi faccio vedere ancora per chi appunto venite perché non ve ne pentirete ci sono vari prezzi costa veramente poco regalatevi questo weekend perché è qualcosa di veramente potente ci sono c'è una band che suona dal vivo c'è il più grande suonatore di gong d'Europa un maestro sloveno faremo dei viaggi faremo dei tentativi faremo anche delle materializzazioni in diretta con una medium insomma c'è tanto roba ci sono delle relazioni stupende c'è il professor Cavi Parisetti che arriva apposta da Edimburgo per illustrarci tutto quello che ha scoperto insomma staremo insieme e sarà veramente qualcosa di mai visto in Italia grazie davvero a Marco Cesati Cassin buon lavoro e a presto davvero grazie 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 a voi grazie Fabio ciao ciao